Solo la, non c'è altro modo per uscire ad averla ed è una farina, la famosa farina americana rinforzata, W330 se vi interessa per... Sì, 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 ok. Quindi è una farina molto più proteica che regge le lunghe lievitazioni, perché per avere un impasto digeribile andiamo a lievitare almeno 12 ore. Quindi, ora facciamo la sera prima e lo mettiamo in frigo con la pellicola, poi lo tiriamo fuori alla mattina, lo lasciamo in temperatura ambiente e quando torniamo, però torno con il filo, bisogna lavorare, perché in Toschia il frigo rompe la maglia luttinica e mi ha dato male.